Ciao bella gente e benvenuti a questo nuovo vlog, sono Luca e oggi vi parlerò di un avvenimento secondo me quasi storico dal punto di vista dello spettacolo ma anche dal punto di vista della crescita dell'Italia, della mente degli italiani comunque un passo avanti rispetto a quello che possiamo aver visto fino adesso dal punto di vista della raccomandazione dal punto di vista dell'essere italiani come ci considerano all'estero parlerò di questa cosa piuttosto che di altri temi perché appunto è una cosa che mi è piaciuta tantissimo e volevo condividerla con te che stai guardando questo video e chiaramente poi mi piacerebbe sapere la tua opinione ma bando alle ciance andiamo subito a vedere cosa è successo ieri sera su Sky 1 è andata in onda la puntata di Italia's Got Talent un ragazzo di nome Cischi o meglio con il soprannome nickname Cischi è andato lì, si è presentato sul palco e ha fatto un'esibizione pazzesca di ballo, di danza che tipo di danza era? era la classica per così dire danza dubstep ovvero contorsionistica e sulle note di una canzone dubstep benissimo il video ve lo lascio in descrizione e potete vederlo e godere di questa bellissima prestazione artistica ora però vorrei raccontare due retroscena il primo è che questo ragazzo come si vede nel video è arrivato lì umile nel senso dall'inizio alla fine ha mantenuto un atteggiamento assolutamente umile e ha mostrato solamente la sua abilità senza parlare troppo, ha detto poche parole e ha fatto veramente bene ha fatto anche ricredere non solo la giuria ma anche tutte le persone che erano lì che iniziavano già a deriderlo perché comunque non era uno che si presentava bene da figaccione o cosa era una persona veramente umile che ha fatto una prestazione pazzesca ora la cosa che appunto definisco retroscena è che lui ha già fatto dei video su youtube di buon livello e ha raggiunto buoni numeri dal punto di vista delle visualizzazioni per quello che sapeva fare appunto ballare e sono veramente impressionanti ve ne lascio uno in descrizione la cosa bella è questa lui ha dimostrato che in Italia si può non essere raccomandati se si può fare vedere davvero quello che si sa fare nonostante il giudizio altrui cioè se noi abbiamo la possibilità cioè se ci danno la possibilità di far vedere quello che valiamo quello che siamo, quello che abbiamo dentro, le nostre capacità, abilità quello che ci piace fare possiamo davvero esplodere possiamo veramente diventare qualcuno nel senso quasi americano del termine cioè gli americani pensano che diventare qualcuno non sia essere raccomandati perché amici di, fratelli di, figli di ma diventare qualcuno significa far vedere le proprie capacità, le proprie abilità ed è una cosa veramente difficile in Italia perché siamo in un'industria chiusa dal punto di vista proprio del mercato dal punto di vista produttivo come workflow cioè quello che l'Italia ha costruito come modo di fare industria fare intrattenimento fare insomma qualsiasi ambito che possa essere economico si è chiuso in se stesso cioè rimane fisso con le solite logiche e questo avvenimento ha cambiato completamente il modo di vedere questo tipo di mercato non funziona più è palese che non funziona più ne abbiamo avuto una prova con il Jobs Act e sinceramente è un buon modo di sbloccare l'Italia perché il blocco dell'Italia non è solamente mancanza di fare utili di migliorare il prodotto interno lordo di risanare i debiti ma è anche un modo di fare mercato che non funziona più invece c'è un altro tipo di mercato di business che in altri paesi funziona e che noi non abbiamo ancora applicato perché siamo tutti quanti ottusi e non riusciamo a venirne fuori ora è chiaro che magari non tutti in Italia lo sono però le realtà che non seguono lo stile italiano da quel punto di vista lì del mercato chiuso vendono soprattutto all'estero e funzionano soprattutto all'estero peccato che in Italia non funzioni invece quello che questo video questo avvenimento dal punto di vista dell'intrattenimento deve mostrare è che si può fare davvero si può fare un qualcosa di diverso in Italia si può cambiare la mentalità delle persone facendo vedere quello che si sa fare la cosa più difficile secondo me è proprio dare la possibilità cioè io so fare qualcosa so cantare so ballare non lo so mi invento nel senso so fare un qualcosa potrebbe essere anche solamente parlare come in questo momento se però io non ho la possibilità cioè io non verrò fuori non verrò mai fuori non diventerò mai nessuno non potrò mai mostrare quello che so fare e quindi tutto il mio sogno che posso avere mi svanirà e io sarò un impedito per tutta la vita farò un lavoro che non mi piace un lavoro che mi concederà qualcuno e si potrà anche permettere di sfruttarmi benissimo questo sarà il futuro da un certo punto di vista se nessuno mi darà la possibilità di farlo se invece qualcuno mi permetterà di farlo allora sì che potrò davvero mostrare in che cosa sono bravo piuttosto che in un altro ambito che magari non mi interessa non mi piace non so fare quella cosa lì questo è quello che deve passare il sogno italiano deve diventare come il sogno americano la possibilità di diventare qualcuno cioè qualcuno che sappia mostrare quello che sa fare alle persone all'Italia al mondo davvero si può fare in Italia lo abbiamo visto e secondo me è davvero un qualcosa di concreto cioè questo è proprio il primo segno concreto che si possa essere diversi e diversi nel senso che si possa avere una certa indole che ci porta ad avere delle capacità piuttosto che altre delle abilità piuttosto che altre e appunto che ci permetta di poi nell'occasione giusta di mostrare quello che siamo quello che vogliamo indipendentemente da quello che noi esteriormente possiamo mostrare il pregiudizio deve essere abolito e questa è la maniera migliore questa cosa in Australia in Nuova Zelanda è quasi una prassi come da noi lo è il pregiudizio è proprio la mentalità apposta lì non è che tu vai in giro e ti dicono ah sfigato tu sei uno sfigato italiano no loro ti permettono di conoscere nuove persone cioè addirittura ti prendono su sotto braccio e ti dicono guarda ti porto a conoscere altre persone guarda questo lui è lui fa così lui è eccetera eccetera e al contrario tu hai il momento tuo per presentarti e far vedere quello che sai fare lui ha sfruttato Cischi il momento giusto e hai riuscito a fare quello che sai fare risultato adesso in semifinale sono davvero contento di questa cosa e spero che altri episodi di questo tipo possano avvenire da adesso in poi e anche magari frequentemente perché così la mentalità delle persone può cambiare davvero e con un cambio di mentalità il mercato ha necessità di cambiare di vedere oltre cioè non le persone per così dire ragionando dal punto di vista del business non potrebbero più comprare i prodotti per così dire della tv non potrebbero guardare quei programmi lì se non ci fosse una possibilità diversa una modalità diversa un pensiero diverso nelle quali le persone si possono rispecchiare se non dovesse esserci questa cosa le persone smetterebbero di guardare la tv e guarderebbero ancora di più il web è quello che chiaramente le società di broadcasting quindi le emittenti televisive vogliono evitare anzi vogliono prendere gli youtuber eccetera eccetera vogliono prenderli per poterli portare poi nella tv o nei loro emittenti fare trasmissioni e avere più seguito perché chiaramente il modo di fare youtube il modo di fare in generale video e altri tipi di intrattenimento online è diverso da quello della televisione ed è quello che alle persone piace perché c'è la spontaneità c'è sincerità c'è c'è tutto un discorso diverso non ci sono le logiche restrittive della televisione dello stato eccetera eccetera a me piacerebbe sapere che cosa ne pensi anche del mio pensiero di questa riflessione lasciami quindi un commento qua sotto se il video ti è piaciuto lascia un pollicione in su e noi ci rivediamo al prossimo video o al prossimo vlog e soprattutto iscriviti al canale perché te lo dico io e tu devi farlo assolutamente quindi prima cosa premi qua sotto il tasto con scritto iscriviti seconda cosa condividi il video se pensi che ad altre persone possa piacere possa interessare ciao belli